Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telecittà. Un progetto pilota di collegamento ferroviario tra l'Ucraina e Interporto Padova per le importazioni di mais è diventato attivo. Il progetto ha già registrato l'arrivo del terzo treno proveniente dalla stazione ferroviaria ucraina di Shop, confermando una nuova via di traffico da consolidare alternativa ai flussi che confluivano fino a oggi dal Mar Nero. Ogni treno è composto da carri convenzionali per una lunghezza di circa 500 metri caricati con particolari big bag contenenti mais. Le modalità di stoccaggio permette lo scarico del prodotto con carrelli tradizionali, senza la necessità di particolari attrezzature dedicate solo alle rinfuse solide in granaglie. Ogni convoglio trasporta circa 1200 tonnellate di prodotto. È stato presentato il progetto riguardante un unico grande centro di prenotazione regionale per favorire la popolazione anziana nell'ambito della sanità. Vediamo di cosa si tratta. Un unico grande centro di prenotazione, così che ci si potrà curare dove meglio si preferisce, indistintamente, in tutto il Veneto. È questo l'obiettivo di medio-lungo termine a cui lavora la regione, di cui ha parlato ieri a Mestre l'assessore alla salute Manuela Lanzarin. Il CUP regionale vorremmo realizzarlo entro un paio d'anni, ha annunciato, spiegando che in generale è un lavoro che guarda in particolare alla popolazione anziana, che deve avere una corsia preferenziale per ricevere l'assistenza di cui necessita il più vicino a casa possibile. In concreto cambierà questo. Oggi ogni cittadino fa riferimento alla propria ULS di appartenenza per competenza territoriale presso la quale ha la priorità. Ovviamente può decidere di curarsi anche in un'altra azienda sanitaria, ma in tal caso deve accettare di venire dopo i residenti andando in lista d'attesa. Quando ci sarà il CUP regionale unico, tutti i veneti avranno lo stesso grado di priorità dappertutto, a prescindere dalla residenza. L'impianto di allarme della sala giochi Las Vegas, situata in via Feltrina su da Monte Belluna in provincia di Treviso, ha cominciato a suonare intorno alle 5.30 a causa di un'incursione perpetrata da alcuni malviventi. I carabinieri sono prontamente intervenuti sul posto con svariate pattuglie della locale compagnia e hanno accertato che i gnoti poco prima, dopo aver forzato l'inferiate di una finestra e sfondato un muro in cartongesso, avevano scassinato sei slot machine asportando il denaro, il danno complessivo comunque ancora in fase di quantificazione. Le prime ricerche dei malfattori hanno dato esito negativo, ma si conta sul supporto delle riprese dei sistemi di videosorveglianza. Si moltiplicano in maniera esponenziale le truffe ai danni di persone fragili perpetrate in rete. Attenzione ai social network e alle email che richiedono dati sensibili. Nel prossimo servizio è la disavventura capitata nel Veronese ad un'ignara signora che credeva pensate di aver conosciuto in chat un noto cantante. Vediamo. Prendono di mira persone fragili, quasi sempre sole, adescandole sui social network fingendosi personaggi famosi, medici in zone di guerra, imprenditori o cantanti celebri che per vari motivi non riescono ad accedere al proprio conto. Ottenuta la fiducia delle vittime, iniziano a chiedere loro soldi promettendo che li restituiranno. Nel Veronese, a cadere ultimamente nella trappola, è stata una sessantenne della Val d'Alpone. La donna sarebbe stata contattata a luglio scorso su Facebook da un uomo che si è spacciato per un noto cantante italiano, chiedendogli una piccola somma di denaro da restituirle a breve, promettendole inoltre che si sarebbero incontrati di persona da lì a poco. Una richiesta a cui ne sono seguite molte altre per un totale di ben 16.000 euro. Visto l'aumento di reati di questo tipo, si invitano le persone a diffidare anche dai vari messaggi di posta elettronica. Viene ad esempio inviata una mail con logo, intestazione di banche o altro, contraffatti, invitando il destinatario a fornire i propri dati riservati, utilizzando la scusa di motivi tecnici. In tali casi, evitare di aprire allegati o link e comunicare i propri dati, consultando i carabinieri. Come cambiano i tempi? I carabinieri sono rimasti stupefatti quando un sedicenne si è presentato in caserma, accade tutto questo in un comune dell'Alta Padovana, affermando di voler denunciare la madre per avergli dato uno schiaffo. Una volta digitato il nome del giovane, nel database però, i militari sono rimasti ancora più sorpresi nel vedere la sfilza di precedenti che, nonostante la giovane età, il sedicenne poteva vantare. Su di lui pendono infatti denunce per furto, ricettazione, spaccio di stupefacenti, persino porto abusivo d'armi. Un curriculum che ha quasi dell'incredibile, soprattutto se riferito a un ragazzino ancora minorenne. La denuncia comunque è stata regolarmente accolta dai carabinieri e trasmessa alla procura di Padova. Cambiamo totalmente argomento. Un vasto incendio ha danneggiato pesantemente un'azienda tessile nel Vicentino. Il pronto intervento delle squadre di soccorso ha scongiurato il coinvolgimento di altri edifici. Vediamo le immagini. Da stamattina i vigili del fuoco sono stati impegnati per un incendio generalizzato di un'azienda tessile di oltre 2.500 metri quadri in via Daniele Manin a Sossano, in provincia di Vicenza. Nessuna persona è rimasta ferita. L'alta colonna di Fumo Nero è stata visibile a chilometri di distanza. Impegnati i vigili del fuoco dall'Onigo, con il supporto di Vicenza ed Este, con tre autopompe, due autobotti, l'autoscala e il carro aria, per un totale di 20 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia che hanno evitato il coinvolgimento del vicino supermercato di alimentari. Le fiamme sono state circoscritte dalle squadre che hanno poi proseguito con le operazioni di spegnimento. Non sono al momento note le cause dell'innesco dell'incendio, già al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche il personale dell'ARPAV. Ancora vigili del fuoco protagonisti. Nella tarda serata di ieri sono intervenuti all'altezza del ponte che collega l'ospedale con il quartiere Fiera, vicino all'entrata di Villa Carisi, a Treviso, per il salvataggio di un uomo scivolato all'interno del fiume Sile, molto probabilmente mentre percorreva il percorso della restera. L'allarme è stato dato da una donna che dal ponte ha sentito le urla di aiuto dell'uomo. I vigili del fuoco, accorsi con il personale di prima partenza, si sono calati lungo la sponda riuscendo a trarre in salvo l'anziano che era grappato a della vegetazione a bordo riva. L'uomo è stato portato in superficie e preso in cura dal personale sanitario del SUEM per il freddo patito nelle acque del Sile. Ferito, un giovane vicentino per l'uscita di strada della sua auto finita in un fossato è accaduto nel Trevigiano. Le immagini. Incidente stradale a Cavaso del Tomba, nel Trevigiano, lungo via Spineda. Nel primo pomeriggio di ieri un ragazzo di 19 anni di mason vicentino è uscito di strada autonomamente con la sua auto, una Peugeot 206, forse a causa dell'asfalto reso viscito da qualche goccia di pioggia. Il mezzo è finito in un fossato pieno d'acqua ma fortunatamente non si è capovolto. Il giovane è stato soccorso da automedica e ambulanza di Pedemontana Emergenze. È stato immobilizzato, estratto dal fosso e deli trasportato all'ospedale Caffoncello di Treviso. I vigili del fuoco di Castelfranco e la polizia locale dell'Unione Pedemontana del Grappa hanno svolto i rilievi di legge. Paura nella mattinata di oggi, venerdì a Mestra. Intorno alle 4 di questa mattina c'è stato l'ennesimo accoltellamento nei giardini di Via Piave. Protagonisti due ragazzi africani sotto i 30 anni, un rumeno e un nigeriano. Il ragazzo nigeriano, un 28enne, ha ricevuto diverse coltellate ed è stato ricoverato in ospedale, ferito alla mano e all'avambraccio. È stato curato ed è già dimesso. Però dovrà tornare in ospedale per un intervento di chirurgia plastica. Entrambi i ragazzi sono naturalmente stati denunciati a piede libero. E adesso, come ogni venerdì, linea a Marisa Sottovia e al suo appuntamento con la storia. Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo dello squero, il tipico cantiere per imbarcazioni di Venezia. E allora conosciamo la sua storia. La tradizione degli squeri è antica quanto Venezia, città indissolubilmente legata all'acqua e quindi all'imbarcazioni e c'era il detto barca se casa. Gli squeri erano appunto cantieri navali dove avveniva la costruzione, la manutenzione e il ricovero di imbarcazioni sia a remi che a vela. La parola squero deriva da uno strumento di lavoro, squara, squadra, che era una sorta di righello a forma triangolare che serviva per indicare le misure. Nella Repubblica gli squeri erano molto diffusi, soprattutto nella zona di Sette Martiri, poi ancora Dorso Duro e Giudecca. L'arsenale, che era il cuore di Venezia, qui invece venivano costruite navi più grosse, sia mercantili e sia militari. Nel tempo poi gli squeri diminuirono, sia perché gli spazi erano insufficienti, i maestri d'Ascia erano pochi, e poi ancora le maestranze non erano sufficientemente specializzate ed ancora perché la manutenzione era divenuta molto costosa. Oggi ci sono cinque squeri a Venezia, il più famoso di San Trovaso del Seicento, che mantiene ancora tutto il suo fascino per le tese, dove appunto veniva posto a ricovero le imbarcazioni. Gli squeraroli, cioè gli addetti a questa attività delle squero, erano per lo più giovani che provenivano dalle valli, dal Cadore, da Val Zoltana, e che sapevano trattare il legno, avevano una preparazione molto buona perché veniva tramandata dal padre al figlio oppure dal maestro all'apprendista. Un'arte quindi che sapeva modellare, plasmare, trasformare il legno in scafi che poi appunto solcavano il mare. Ricordiamo che nello squero avveniva la costruzione di diversi tipi di imbarcazione, ricordiamo la gondola, la regina appunto delle imbarcazioni, simbolo della città di Venezia, che richiedeva 500 ore di lavoro per essere realizzata e c'era l'impiego di sei tipi di legno, dall'abete, dal ciliegio, dal rovere, mogano, olmo e tiglio. Gondola che si spostava facilmente, perché appunto più agile, e che era di porto e anche commerciale. Si trovava inserita nelle bricole, che sono quei pali appunto della laguna che servono come segnalettica. Quindi squeri mantengono la loro tradizione, sono ancora un simbolo della città che resistono ancora ai tempi nostri. Le risorgive, le importanti falde acquifere, stanno morendo. Quasi il 30% di quelle rilevate nella marca si è ormai estinto. Senza più acqua, in termini assoluti vuol dire ben 65 su 212 registrate nella fascia che va dalle sorgenti del Sile alla città di Treviso, per poi salire verso Derzo e Gaglierine. I numeri sono stati messi in fila nell'ultimo report. Il problema parte da lontano, ma l'ormai prolungata assenza di pioggia ha portato a una siccità che sembra cadere come un colpo di grazia. Il livello delle polle è ai minimi storici. Nel Gran Bosco ci sono fontanassi completamente secchi. Il quadro di fatto corrisponde a quello che si vede a settembre. Il punto è che adesso siamo alle porte della stagione irrigua, non verso la sua conclusione. L'acqua oggi più che mai preziosa serve a tutti, soprattutto al ridosso della nuova stagione dedicata all'irrigazione dei campi. Non resta che sperare nella pioggia. Siamo inizio marzo e incrociamo le dita. E a proposto di pioggia, chiudiamo dando un'occhiata al meteo. La pressione è in aumento e tra sabato e domenica mattina la circolazione sarà completamente anticiclonica, mentre da domenica pomeriggio assumerà caratteristiche intermedie tra l'anticiclonico e il ciclonico. Le temperature diurne e sopra la media anche di molto saranno l'elemento meteorologico saliente del fine settimana. Da lunedì invece attese delle precipitazioni anche se modeste. Di pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso, nuvoloso di sera in diminuzione fino a cielo anche sereno. Localmente saranno modeste le precipitazioni a tratti sui monti con quota della neve intorno ai 1300-1600 metri. Temperature più alte rispetto a ieri e alla media di pomeriggio in modo anche sensibile. E tutto per quanto riguarda l'informazione. Come sempre vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Telecittà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.